Ritorniamo in Sicilia e andiamo a capire come sta evolvendo la situazione a Catania. Ricordate che abbiamo parlato di un blackout elettrico e anche dell'assenza di acqua. Andiamo con le immagini che ci arrivano dalla regia, anche perché ovviamente lì è presente anche il problema dell'aeroporto. Siamo arrivati al nono giorno da quell'incendio, adesso i voli all'aeroporto di Catania dai 30 che erano prima sono passati a 10 all'ora. Ieri c'è stato anche il presidente della regione per un sopralluogo. Cosa fanno i turisti? Beh, devono aspettare fuori e entrano solo a ridosso del volo. Ma ricordiamo che appunto c'è questo blackout che continua, bar senza acqua. E allora il comune ha predisposto queste sale comunali dove si può andare a bere o refrigerarsi un po'. Addirittura anche la metro è stata aperta liberamente. Ma attenzione perché il problema del blackout sta interessando anche Palermo dopo gli incendi della giornata di ieri. Ricordiamo che sembrerebbero domati al momento, però sono in funzione. Adesso in attività 2.500 vigili del fuoco, due vittime ci sono state ieri a Cinisi e 650 interventi nelle ultime ore. Quindi una situazione molto grave. Questa è la chiesa di Santa Maria in Gesù e ieri queste immagini hanno fatto il giro del mondo. una chiesa storica e c'è stato anche l'appello di una ragazza che ha fatto una diretta sui social per chiedere vi prego aiutateci, qui sta andando tutto a fuoco. Immagini che davvero hanno fatto il giro del mondo, eccola vediamo. Volevo chiudere però Tiberio andando in Calabria perché brucia anche la Calabria. Ci sono queste immagini che lancio dal mio tablet. Guardate, un progetto che arriva dalla regione, lo andiamo a vedere, eccolo qui, hanno notato delle fiamme. Eccolo qui, guardate, sta bruciando un campo. Siamo in provincia di Catanzaro. I droni avvistano il piromane che arriva con la sua moto e che cosa succede? Lui, questa persona, questo malfattore, si accorge del drone che lo sta guardando. e che cosa fa? Adesso arriva, prende delle pietre, ecco lui adesso si accorge di essere stato intercettato da questi droni della regione e decide, guarda, lancia addirittura le pietre al drone. Per fortuna l'uomo è stato intercettato e denunciato. A te Tiberio. Incredibile, incredibile. Sale intanto il bilancio delle vittime. Siamo a sette, tre morti a Palermo, un quarto nel Regino. La sedicenne di cui vi abbiamo detto ieri, morta a Brescia, e due ventenni a Varese. Abbiamo in studio il tenente colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare. E in attesa dei collegamenti sul territorio, la domanda d'obbligo è uno scenario abbastanza pesante, qualcuno potrebbe dire anche d'Apocalisse. Le previsioni nei prossimi giorni? Ancora la stessa storia? L'ubio e fraggio al nord, caldo, torrito? No. Fortunatamente no, Tiberio. Andiamo verso un periodo che può essere più consono rispetto a quello che dovremmo aspettarci in questa parte di luglio. Possiamo parlare negli ultimi giorni del mese di luglio come di un'estate normalissima. Quindi le piogge ormai al nord sono un ricordo, i nubi fragili sono un ricordo, le grandinate e le trombe d'aria che ci sono state ormai hanno lasciato spazio al sole, a temperature non troppo elevate. e anche al sud, se pensi che oggi, a quest'ora, ieri avevamo 41 gradi a Bari, adesso ne abbiamo 29, ne avevamo 41 a Palermo, ne abbiamo 27. Questo ci fa capire come questa aria africana si sia ritirata, si stia ritirando gradualmente, lasciando spazio ad aria un po' più fresca. Ormai l'energia che ha prodotto i fenomeni dei quali abbiamo parlato, quindi i nubi fragili, è stata consumata dal sistema, per cui non andremo più incontro a questa tipologia di situazioni e il tempo si fa sempre più stabile, ma decisamente più mite. Daniele, per capire, ormai abbiamo familiarizzato con questi fenomeni meteorologici estremi. Come mai? E adesso c'è questo termine che gira, le supercelli. Supercelli. Sì. Allora, il problema nasce, il vero cambiamento climatico è nel tipo di estate, non tanto nel fenomeno, come hai definito bene tu, di supercella che si crea, perché la supercella che si crea è una conseguenza dell'aria calda che si ritira, l'aria fredda che arriva dal centro Europa e quindi siccome in atmosfera tutto si genera per differenza di temperatura, tanto più, questa differenza è ampia, tanto più la natura mette in gioco sistemi, fenomeni decisamente importanti. La nube che genera il temporale, il temporale è la scarica elettrica, è il cumulonembo. Tanti cumulonembi messi insieme fanno una cella, molti più cumulonembi messi insieme fanno una supercella, ma più che altro in termini di dimensioni spaziali, quindi una cella occupa una ristretta aria, una supercella comprende un territorio più vasto anche su base regionale o subregionale. Dicevamo dei nostri collegamenti, Massimo Mignanelli, Reignos24, dove sei? Buongiorno. Ecco, io mi trovo in una via di Milano, via Argon, una via che è completamente devastata dagli alberi caduti su decine e decine di auto. Se l'operatore ci fa fare un giro con la telecamera possiamo anche vedere qual è la situazione. E' una situazione veramente incredibile, alberi secolari che hanno distrutto macchine e soprattutto non c'è viabilità. Oltre alla protezione civile, Vigili del Fuoco è intervenuto anche l'esercito oggi che sta dando una grande mano, ma noi abbiamo con noi l'assessore Granelli, l'assessore della protezione civile, la sicurezza stradale. Assessore, insomma, questo scenario è quasi apocalittico. Sì, è frutto di un vento che nella notte è superato i 100 km orari con una pioggia che in 10 minuti è caduto 40 mm di pioggia a pari a quella che cade in un mese. Quindi questo evento straordinario che non ha precedenti ha abbattuto migliaia di alberi. Solo situazioni come queste ne abbiamo più di 400, cioè più di 400 località dove alberi di grossa dimensione interrompono le strade. Stiamo agendo con priorità su questo e con priorità dove passa il trasporto pubblico, le linee dei tram, dei filobus, dove sono interrotti i fili e vanno ripristinati. Questo è il primo lavoro che stiamo facendo, dai primi momenti, sono più di 24 ore che stiamo lavorando e abbiamo fatto più di 200. Quindi la viabilità è comunque complicata? La viabilità è compromessa, stiamo riattivando le linee, riaprendo le strade. Poi dopo ci occuperemo degli altri alberi che sono caduti nei bassi e nei vari verdi. Grazie Assessore, grazie Massimo. In più abbiamo una dozzina di scuole che hanno... Grazie. Grazie a voi la linea. Grazie. Milano-Operosa, ci sono molte linee tramviarie che passano nei viali dove ci sono molti alberi perché Milano c'è molto verde. A proposito di questo, dottor Pierluigi Spada, lei è chirurgo d'urgenza al Gemelli di Roma, se ci si trova sotto la pioggia, sotto un temporale e con onnessi fulmini, come ci si comporta? Perché le probabilità non sono poi tanto remote. Se si guardano le statistiche, poi il Tenente Colonnello lo saprà meglio di me, cascano in Italia un milione e mezzo di fulmini. Fortunatamente la probabilità di essere colpiti da un fulmine è bassa, siamo una su un milione. Però se succede che cosa fare? Innanzitutto è fondamentale nascondersi in un rifugio che sia un'abitazione. Se però questo non è possibile, periodi di vacanza, anche perché luglio e agosto sono i periodi dove cascano più fulmini, dove ci sono più temporali. Se veniamo colti, uno dei modi per riuscire a contenere il danno è quello di accovacciarsi. Posizione fetale. Sì, mettersi soltanto con i piedi a terra e accovacciarsi, o per chi non ce la facesse, piegare il corpo e allontanarsi dalle altre persone. Le persone noi non carichiamo l'energia. Se il fulmine dovesse colpirci, o come più frequente succede, ci colpisce l'energia che il fulmine disperde, o nell'acqua o sul terreno, che è più frequente, che sono anche poi le lesioni dalle quali si riesce anche ad uscire più illesi, è bene tenersi distante, perché sennò facciamo gli archi elettrici tra le persone. E poi però nel momento del soccorso possiamo tranquillamente avvicinarci alla persona e toccarla. E la grandine, perché con questi chicchi, insomma, mica c'è da scherzare, palle da tennis. La grandine, come peraltro gli alberi, anche perché una delle vittime è stata colpita proprio da un albero. Quelli sono oggetti contundenti, quindi è un trauma vero e proprio, da peraltro una energia cinetica altissima, perché arrivano dall'alto queste palle di ghiaccio e i danni sono esattamente quelli di una pietra. E il lavoro non è solamente per quelli degli amici dell'aeronautica militare, per i medici e per gli assessori che devono ripristinare la viabilità, ma anche e soprattutto per i vigili del fuoco. Buongiorno a Laura Lega, capo dipartimento dei vigili del fuoco. Qual è la mappatura della situazione? Buongiorno a voi e ai telespettatori. La mappatura attualmente ci vede ancora impegnati soprattutto nelle aree più colpite in queste ultime ore. Gli interventi ieri sono stati notevolissimi sulla Lombardia, Milano, Brescia, Monza-Brianza, ma poi siamo stati investiti ovviamente da tutte quelle che sono le attività in Sicilia legate agli incendi che hanno colpito in particolare all'area del Palermitano, ma non soltanto, il Trapanese. E poi ovviamente gli incendi che si sono sviluppati in Puglia, in Calabria. Quindi insomma abbiamo avuto veramente un notevole impegno, un notevole rispiego di risorse, di mezzi e di uomini su tutte queste regioni. Qui avete fatto fronte con anche i Canadair, non solo i droni che abbiamo visto prima individuare un piromane. Come siamo messi a flotta di Canadair? Noi abbiamo una flotta estremamente importante che ovviamente poi opera nel meccanismo unionale, quindi siamo spesso impegnati anche su scenari internazionali come da ultimi in Grecia e non soltanto. Quindi è una solidarietà a livello europeo che ci vede ovviamente giocare un ruolo fondamentale. Abbiamo una flotta aerea significativa composta da mezzi, da velivoli alla fissa, i 18 Canadair che abbiamo a disposizione, uno purtroppo il 19esimo l'abbiamo perso, sono periti i nostri piloti nell'ottobre scorso. E poi abbiamo ovviamente un numero estremamente importante, circa 40 elicotteri particolarmente impegnati anche nell'AIB, quindi che concorrono utilmente come flotta aerea. E' chiaro che la lotta, il contrasto vede agli incendi, incendi boschivi, incendi vegetazione, è una lotta che si fa ovviamente mettendo in campo una strategia complessiva che non è soltanto quella del mezzo aereo che è fondamentale, ma con le nostre squadre AIB estremamente importanti, con un sistema modulare che si muove da tutta Italia, veramente come un solo uomo, che quindi accorre laddove necessario, in tempi veloci, con uomini ovviamente preparati a questo tipo di interventi, con mezzi ad hoc. E poi nel corso di questi ultimi mesi, di questo ultimo anno, abbiamo fatto un passo in avanti, abbiamo creato dei presidi rurali, li stiamo aprendo in tutte le regioni e lo stiamo facendo proprio per garantire quella capillarità, quella prossimità del corpo nazionale, soprattutto vicino le aree boschive, le aree più vulnerabili, i parchi naturali, in modo tale da essere rapidamente presenti e poter intervenire con la massima tempestività nei momenti di rischio. Gli ultimi mesi a cui lei accennava non è che siano stati particolarmente facili, perché viene in mente, ad esempio, quanto accaduto in Romagna, siete sempre sotto pressione. Gli uomini ci sono, la coperta non è corta, mi sembra di capire, però qui non c'è un attimo per rifiatare. No, l'impegno del corpo nazionale, del Ministero dell'Interno, ovviamente è costante e totale. Io lo voglio dire, nonostante ovviamente il dispiego di risorse importanti, non è mai sufficiente, perché ovviamente gli scenari di rischio si moltiplicano, l'abbiamo visto anche in queste ore, no? Mentre avevamo fenomeni di incendi al sud estremamente importanti, in contestuale, al nord avevamo episodi opposti. L'abbiamo visto nei mesi scorsi, lei ricordava l'Emilia Romagna, dove ancora siamo presenti, accanto alle comunità, accanto ai sindaci, per ripristinare la viabilità. Ogni sforzo lo si fa, non solo nel momento dell'emergenza, portando il soccorso pubblico, che è la prima cosa, salvare le vite ovviamente, è la necessità primaria, ma lo facciamo poi con un impegno costante su tutti i territori. Voglio ricordare, tra l'altro, il nostro pensiero deve andare non solo alle cinque vittime di queste ore in Sicilia, ma appunto alle vittime purtroppo dell'Emilia Romagna, e vado indietro di pochi mesi pensando a quanto è accaduto a Casa Micciola, a quanto è successo ancora prima nelle Marche. E quindi, insomma, sono scenari che si ripetono, che spesso si muovono in contestuale, quindi l'impegno ovviamente è massimo. E poi la dedizione dei Vigili del Fuoco è di pari passo alla dedizione del personale sanitario che deve fronteggiare certe emergenze. Soprattutto quella del territorio, il 118, che ovviamente viene chiamato su terreni che sono anche impervi, non è un soccorso semplice. Voi, immagino, lavoriate di pari passo, visto che lei è in prima linea, anche con i Vigili del Fuoco, che vi chiamano mentre stanno trasportando oppure vi avvisano prima. Come funziona questa sinergia? È il 118 che coordina e quindi poi c'è un'organizzazione sugli ospedali di riferimento e quindi vengono trasferiti con un'informazione che ci arriva appunto dal 118 sulla tipologia di paziente che sta arrivando. Quindi può essere l'ustionato, può essere il fulminato, può essere il paziente traumatizzato. Oh, abbiamo la Sicilia, risponde all'appello Enna De Vincenzo del Tg1. Dov'è di preciso? E soprattutto le notizie dell'ultima ora. Grazie. Noi siamo in uno dei quartieri di Palermo dove le fiamme sono arrivate alle abitazioni. Qui lo vedete quello che resta di una casa. Ci abitavano due famiglie. Si continua a lavorare con i Vigili del Fuoco, soprattutto per che le persone si sentono al sicuro perché con queste temperature e il vento che si è nuovamente alzato il rischio è che possano ripartire dei roghi e in effetti è quello che purtroppo è successo dopo una notte davvero difficilissima su più fronti del Palermitano. Di nuovo questa mattina sulle montagne sono ripartiti degli incendi. E poi si lavora anche sulla discarica sopra Palermo anche per scongiurare i rischi per quanto riguarda la salute. Si attendono naturalmente i risultati su quello che viene respirato. Il consiglio di utilizzare la mascherina. L'allerta dunque è altissima. Lo ricordiamo in Sicilia. Ci sono state anche tre vittime per colpa dei roghi. Linea a voi. Grazie Aniele Vincenzo. Buon lavoro per sapere di più Tg1 e Rai News ovviamente. Daniele siamo in chiusura. 30 secondi. Le previsioni a stretto giro proprio sulla Sicilia? Sì, no. Il problema fondamentale, abbiamo parlato della temperatura, abbiamo parlato di una situazione che migliora da quel punto di vista. Il problema per gli incendi è proprio il vento. E credo che chi, come quel soggetto che abbiamo visto, approfitti proprio di questo, del fatto che possa aspirare il vento affinché gli incendi possano essere anche più devastanti. L'unico problema della Sicilia adesso è proprio questo. È il vento, non più le temperature se vogliamo. Ringrazio gli ospiti. Daniele Mocio, presenza familiare, al pari di Pierluigi Spada, chirurgo d'urgenza al Giamelli di Roma. Grazie a Laura Lega, capodipartimento dei Vigili del Fuoco. E ringrazio anche per il loro lavoro Massimo Mignanelli di Rai News e, l'avete appena vista, Elena De Vincenzo. Noi ci si ritrova domani. Adesso la scena è tutta di camper. Buon lavoro e a domani. Buon lavoro e a domani.